ok vieni qua tu e non vuole mettere a fuoco la videocamera siamo sempre a busisio parini la serata tutta disco la telecamera fa i scherzi perché fra in penombra è veramente un delirio e me ne vado da qua e aspetta che non me ne vado allora comunque l'acqua di busisio parini il riflesso della luna bello e qui se vediamo lì in fondo è dove prima registrate il video il problema che non si vede bene perché il ponte mobile dove sono si muove e quindi la telecamera fa fatica ok adesso siamo sulla terraferma diciamo che c'è un bel palco montato la telecamera fa fatica c'è proprio non fa fatica veramente no no sarebbe già strano la merda quello zoom no niente niente fa fatica e purtroppo siamo in un'ora un pochettino non bella perché siamo in penombra e le luci vengono a mancare e l'illuminazione stradale e l'illuminazione stradale purtroppo ancora come potete vedere non c'è e quindi non c'è comunque il sottofondo è bello qualche zanzara ci sta tentando di ok comunque bello non c'è